Uno sguardo originale che rivela talento. Su Rai 5 continua l'appuntamento con le prime opere degli autori più brillanti del cinema italiano del nuovo millennio. Perché ridi? Perché non piangi mai? Il dolore serve proprio come serve la felicità. Nuovo Cinema Italia Ogni lunedì alle 22.15 Rai 5 Grazie, grazie. Troppo buone.